I carissimi ospiti ci fanno un canto, ci regalano un canto che si intitola Mare? Mare, Mare, che sorella Alessandra quando iniziarono gli arrivi dei profughi, perché la missione nasce nel 1991, poi dopo dieci anni abbiamo visto arrivare tanti profughi nella nostra Sicilia, ma noi non avevamo programmato una comunità per i profughi, ce l'ha lo Stato, però uscendo dai centri dell'accoglienza vagavano per le vie, per le strade, arrivate a Palermo, non trovavano alloggio e allora da questo nasce l'esperienza, anche il piccolo Pares che aveva attraversato il mare cinque anni fa con la mamma si è salvato, è arrivato qui nella Palermo, ecco che nasce anche questi volti sofferenti, loro parlavano anche nella loro tragedia del paese, la guerra, la persecuzione, la fame, e adesso sorella Alessandra scrive queste parole e adesso vi porta anche qua, con semplicità, queste parole a tutti voi. Ascoltiamole, pace! Ascoltiamole, pace! Dio dove il patria oggi o qui voi ci rinconteremo! Dio ci fanfirrà Ame, 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 ame e agli occhi veri su cielo tutti insieme andiamo Dove Dio vorrà, male, 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 gli occhi versi in cielo, coraggio partiamo, Dio ci aiuterà. Dall'Egitto Dio chiamato con Giuseppe e con Maria, nel fuggire dalle robe, figlio mio Gesù. Dall'Egitto Dio chiamato con la mamma e col papà, nel fuggire dalle guerre, figlio mio Gesù. Mare, 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 gli occhi versi in cielo, tutti insieme andiamo dove Dio vorrà. Mare, 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 gli occhi versi in cielo, coraggio partiamo, Dio ci aiuterà. Grazie.